In discesa non si affronta un tornante in questa maniera, troppo stretto in entrata, uno è costretto a rallentare, rallentare tanto, tra l'altro c'è il rischio di cattività, vedete, troppo larga l'uscita, e si perdono secondi e si rischia troppo. Questo è il modo giusto per affrontare il tornante, largo in entrata, poi si raggiunge la corda, così uno ha tutto lo spazio per chiudere la corda e rimanere.